Il nome del popolo italiano, la corte di Assisi di Capo, letto l'articolo 23 del 87.1953, dichiara riva ritora colpevoli di tutti i reati allo stesso pubblica scritti, ad eccezione di quelli confessati al capo aereo e delle forti si contraddizionali di cui al capo aereo. Riva fabbanturo colpevoli di tutti i reati allo stesso pubblica scritti, ad eccezione di quelli di quei campi QR e PP e dei reati contrapensionali contestati al capo aereo, e un indicato, infatti per continuazione, condannati. Riva fabbanturo alla fine degli anni 22 di reclusione, ma ci immaginò la fine degli anni 21-26 di reclusione, Popolo Rosso Regi, riconosciuta allo stesso di circostanze affermanti di generico, con un'idea di equivalenza sulle contestate accadranti e recidiva, alla pena degli anni 21 di reclusione. Riva Nicola, alla pena degli anni 21 di reclusione. Riva Nicola, riconosciuta le circostanze affermanti di generico, alla pena degli anni 3-6 di reclusione. Florio Giovanni, conservo il piede, riconosciuta per entrato di circostanze affermanti di generico, alla pena degli anni 3-6 di reclusione. Riva Nicola, riconosciuta le circostanze affermanti di generico, alla pena degli anni 2-6 di reclusione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.